La dottoressa Yolanda Lotta, neo consigliere comunale di Leporano, era candidato sindaco con Lotta per Leporano, ora siede ai banchi dell'opposizione. Lei ha accennato a un ruolo di opposizione costruttiva, comunque nell'interesse della collettività. Sì, io con la mia squadra tutta, Lotta per Leporano, vogliamo portare avanti questo principio, il principio di un'opposizione costruttiva per il bene comune e faremo, voglio dire, un'opposizione che sia un'opposizione, voglio dire, senza, non vogliamo né nemici, non vogliamo veramente lavorare per il bene della comunità tutta, perché riteniamo che Leporano sia la casa di tutti i Leporanesi. Lei ha considerato anche proprio nei giorni scorsi delle problematiche di natura ambientale che riguardano voi Leporano o voi Pulsano? Noi abbiamo detto fortemente no all'impianto di compostaggio che si sta facendo a Pulsano e penso che tutta Leporano si deve riunire in questo forte, voglio dire, problema.